Gabriele 100 ha fatto una videoguida sulla Ultra DI 100, non poteva essere altrimenti. Complimenti Gabriele per questa video recensione. La DI Behringer Ultra DI 100 è una delle DI più utilizzate al mondo, credo, in assoluto, in studio di registrazione e anche e soprattutto in live, per la verità. La videoguida di Gabriele non è scontata perché su una DI magari sarebbe potuto dire anche di meno, invece la parte approfondita, la parte introduttiva ti spiega un po' che cos'è una DI e quali sono le caratteristiche principali di questa DI Behringer. La parte avanzata invece ti dà degli spunti sull'utilizzo dell'ADI anche dal punto di vista pratico, quindi caldamente consigliata la visualizzazione anche del video avanzato. Buona visione quindi da Francesco Nano e grazie ancora Gabriele per questa bella video recensione. Ciao! Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Io sono Gabriele Cento e vi parlo dal mio home studio di Milano. Puoi visitare la mia pagina a profilo Scuola Suono per ulteriori dettagli. In questa video guida parleremo di Behringer Ultra DI 100. Che cos'è la Ultra DI 100 della Behringer? Si tratta di una semplice DI box che vedremo adesso nel dettaglio come funziona. Prima di tutto cos'è una DI box? La DI box è uno strumento essenziale per il trasporto del segnale. Immaginiamo di dover connettere una sorgente, quindi un'uscita di tipologia sbilanciata, ad un carico, quindi un ingresso bilanciato. Un esempio nei live. In molti casi vi sono parecchi metri di distanza tra il nostro strumento e il mixer. Il fattore della distanza suggerisce immediatamente che non è il caso di utilizzare un cavo bilanciato. Immaginiamo le varie interferenze che potrebbero rovinare in un certo senso il nostro segnale. Quindi per poter utilizzare un segnale bilanciato, quindi un cavo bilanciato, è necessario connettere il nostro strumento ad una DI come la Behringer Ultra DI 100. Che per l'appunto riceve su ingresso un segnale sbilanciato e molto semplicemente ne fornisce in uscita lo stesso segnale ma in versione bilanciata. Così da poter essere trasportato da cavi bilanciati e quindi vantare una certa immunità dalle interferenze. La Behringer Ultra DI 100 è una DI attiva e quindi possiede un sistema di alimentazione proprio. E vediamo le principali funzioni. Prima di tutto può fornire in uscita un segnale bilanciato come abbiamo appena detto. È in grado di splittare il segnale e questo può avere molti utilizzi e molto utile sia in live che in studio. E risolve alcune problematiche di connessione degli strumenti sia in live che in studio appunto. E sono sicuro che molti di voi potranno soffrire degli esempi che faremo nei prossimi video. Proprio in questi video scoprirai tutte le caratteristiche che rendono la Behringer Ultra DI uno strumento assolutamente indispensabile. Ti ricordo che per accedere a questi video dovrai effettuare la registrazione gratuita.